Riparte dall'1 a 1 del 3 aprile del 25esimo minuto di gara in quella in fausta giornata di domenica che determinò la sospensione e che sarà una gara ricca di episodi, si capisce dopo 60 secondi dal fischio di inizio. 26esimo pallone buttato in avanti, Cellucci, Beffa, i due centrali disattenti e in fila di piatto venditti. 2 a 1, dormita della difesa della squadra marsicana che prova a farsi viva al 29esimo. Puglielli su Bisegna che lascia andare il sinistro in volet sul quale D'Amico si distende e chiude in angolo. Ma il penne è attento e concentrato e alla mezz'ora concede il bis. Il tackle difensivo in fausto perché si trasforma in un assist per Cellucci in grado di colpire e togliere la terra del ragno del 7 della porta avezzanese. 3 a 1. L'Avezzano non è proprio in partita ma ci prova al 44esimo. Filtrante per pendenza che si allunga il pallone di quel tanto che permette l'uscita tempestiva di D'Amico. Sul finire di tempo ancora. Penne pericolosa stavolta su calcio da fermo. Cacciatore lungo, venditti, si fa sorprendere dall'allungo della sfera e fa fido sul pugno destro. Tutti nello spogliatoio è ripresa che si accende al nono. Cellucci a portiere battuto. Zanon è il rimpallo della sfera in campo. Ma che bravo, guerra. Penne vicino al 4 a 1. Non c'è tregua. Entrano Braghini e Cross per Donatangelo e Di Gianfelice nell'Avezzano. E così al decimo Cellucci per guerra. Il destro che venditti battezza fuori specchio pur tuffandosi alla sua destra. Momento Avezzano. Dodicesimo. Bezzana va alla grande. Sulla destra taglia l'area e mette i brividi a D'Amico. Sinistro col controllo. Destro per il tiro. È il momento di Bisegna. Ma vola D'Amico. E la traversa dice no. Ancora in decisione Avezzano. Albanese lascia correre il pallone. Si inserisce Cutilli. Pochi centimetri mancano per l'impatto di Cellucci. Prova il forcing. La formazione di Torti. L'angolo di Bisegna. La testa di Blanco. 3 a 2. Torna in gara. Si gioca sull'asse Bisegna-Blanco. Il primo. Pennella. Il secondo di testa che vola e colpisce. D'Amico c'è. Poi la risposta di Cacciatore tra le braccia in bocca a Venditti. Ma 4 di recupero e fino alla fine il risultato non cambia. Colpaccio Penne per l'Avezzano. Festa promozione rimandata. Colpaccio si può ben parlare così di questa gara che ha riacceso sicuramente le speranze del Penne. Anche con un'ottima prestazione. La vittoria di oggi era importante perché comunque ancora ci crediamo. Quindi ci sta ancora la possibilità di salvarci diretti. Sappiamo che è difficile però credo che dopo questa prestazione ci dà ancora più fiducia. Quindi noi veniamo da un periodo strano. Abbiamo avuto 12 positivi. Quindi siamo stati 15 giorni fermi. Ci siamo allenati in 9. Non è un alibi però comunque a noi ci siamo un po' condizionati. Quindi adesso piano piano stiamo ritornando la condizione. E sono convinto che dopo la prestazione di oggi ce la possiamo giocare fino alla fine. Senza dubbio la prestazione di oggi vi ha fatto ritrovare non solo il sorriso ma anche certifica lo stato di forma. Adesso sotto con il Giulianova. Sì, domenica è un'altra partita dura perché arriva la seconda della classe. Spara forte, giovane. Quindi dobbiamo ripetere la stessa prestazione. Sappiamo che è difficile però almeno l'atteggiamento iniziale deve essere lo stesso. Poi è chiaro ogni partita ha una storia a sé. Però noi ci dobbiamo provare fino alla fine perché dobbiamo portare in porto la salvezza. Parole di circostanza. Festa promozione rinviata. Poi parliamo della partita. Sicuramente sì. Ovviamente non è fatto il risultato. Anche perché il penne è partito fortissimo. Vi ha sorpreso? Sì. No, non è che ci ha sorpreso. Loro ovviamente era l'ultima spiaggia ma anche per noi doveva essere l'ultima spiaggia. Per cui abbiamo sbagliato l'approccio sicuramente. La ripresa, i primi 20 minuti. Dopo il secondo tempo abbiamo cercato di cambiare qualcosa. Siamo stati molto più prepositivi. Abbiamo fatto un buon secondo tempo. Però ripeto, i primi 20 minuti non mi sono piaciuti per niente perché non è l'atteggiamento quello di una squadra. Esatto. No, ma qua si dà troppo per scontato il fatto che il camionato è finito o niente. Quanto regala niente a nessuno, come è giusto che sia. Per cui ogni partita è difficile in una battaglia e bisogna andare a battagliare sempre. Al di là del fatto che sono 8, 9, 10 punti. Se non c'è la matematica tu non puoi dire che è finita. È finita quando la matematica ti dice che è finita. I cambi hanno determinato anche un cambio di marcia nella ripresa, no? No, ma noi avevamo qualche difficoltà perché anche Lombardo non c'eravamo, i due squalificati, Besana sotto tono. È ovvio che i due cambi ci hanno dato molta più vivacità, molta più spinta. Infatti poi si è visto, no? Però ripeto, al di là di quello non mi è piaciuto i primi minuti, i primi dieci minuti. Noi abbiamo, cioè, perché ridà onore al Penne, che non ha rubato assolutamente niente. Però noi abbiamo subito tre gol e sono stati tre regali. Difesa un po' disattenta, no? No, non possiamo regalare quei gol. Ripeto, nelle condizioni in cui siamo noi, al di là del fatto che il Penne era anche con l'acqua alla gola e quindi era giusto che si giocasse la partita con quella della terminazione, ma noi dovevamo fare altrettanto. Poi il risultato del campo, quello che viene, ci dobbiamo prendere. Però, ripeto, l'approccio alla partita non è quello giusto. Non è una squadra che sta per vincere il campionato.